La nostra posizione sul nucleare è assolutamente un no, proprio netto, perché riteniamo che fondamentalmente è un danno innanzitutto per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per la salute. L'alternativa al nucleare dal punto di vista energetico nostro è nell'utilizzo delle energie rinnovabili, che sono uno strumento assolutamente unico attualmente in Italia per rilanciare anche le altre economie.